Ciao, mi tolgo gli occhiali, un bacione a tutti, grazie davvero del supporto che ci state dando, siete super Che bello rivederti, che bello riveder voi, grazie mille davvero, perché c'è il peperoncino? Questi li teniamo perché c'è Orietta Berti che ha detto che la vostra canzone le piace tanto, lei scalda la voce con questi, li vuoi? Sì, è un po' pesanti questi, questi mi irritano qualche... Ciao davvero, grazie mille di tutto Ci avete regalato delle emozioni veramente speciali Il vostro supporto invece ci regala emozioni incredibili, fuori dall'hotel prima c'era un sacco di gente che stava cantando e davvero ci ha emozionato Ma lo senti il peso, tra virgolette, di essere i favoriti? Ma chi è il favorito non vince mai, poi la verità è che ci sono grandissimi artisti come Lisa che... Cosa vuoi dire? Meritano tantissimo, noi siamo qua a fare il nostro e speriamo Posso dire chapeau per questo ragazzo che sta come si sta al mondo? Bravo! Grazie mille, grazie a voi Bravissimo, buon vento, buone prove